Oggi è il giorno di Tolfa Unico Mezzia, siamo nella nonna giornata di ritorno del campionato di eccellenza una gara molto importante sia dalla parte che dall'altra il Tolfa arriva dalla sconfitta 1-0 a Vignanello contro la Monticimini si trova all'undicesimo posto, Unico Mezzia invece dà il successo sul filo di lana per 3-2 contro la Vissartena Esatto, questa nebbia che si è fatta molto fitta Loro dal campo è diverso, sicuramente hanno una visuale diversa dalla nostra vedi che fa fiammate, adesso si rivede e si rivede bene anche io penso una cosa, il clima ha cambiato già dieci volte è stata fermata la partita, sospesa la partita al 41esimo del primo tempo vedremo, anzi vedremo la parola grossa in questo momento, scopriremo tra poco se si potrà proseguire cosa dice, tutti a parlare con l'arbitro, la sospensione direi doverosa, in questo momento non si può giocare è vero è vero